E che parte di lei ti racconta, Mattiato? Sono curiosissimo. Fortissime, fortissime. Poi ogni tanto ci mette in mezzo al fiscigliano e poi veramente c'è da pisciarsi sotto la risata. Ma te ne ricordi una? Eh no, in questo momento mi prendete... in un momento c'è il mio neurone, l'unico che mi... Cioè avevo un neurone per cantare sul palco. Ma no, certo, abbiamo finito di cantare. Però posso dire, Emma, perché tu, io, almeno Miau, tutti ci auguriamo che risaliate su quel palco perché fra i primi tre, per la finalissima, diciamo così. Col tuo vestito rosso, ci stava benissimo il bufo con gli occhiali, eh? Adesso, se ci pensi... E beh, non me l'ha dato nessuno il bufo con gli occhiali. Ma come non ti andava? Ma provvediamo subito, adesso te lo facciamo avere, assolutamente. Me ne metto due se volete. Grande, grande, allora ci vediamo dopo. Dopo, Emma, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ma come non gli andava? Ma che inviati abbiamo? Eh, lo so, non ho fatto in tempo, gli ho dati otto, pensavo che uno dovessero a terra. Non ti fai stare a rinforzo, ma che... Tra l'altro ieri siete stati degli ingrati perché il bufo a Natali nessuno ha detto che gli avevo portato. Ma non gliel'hai dato, non sei mai andato a Sanremo. La piantiamo. Siamo come quelli che a forza di raccontare palle credono a quello che raccontano. Sì, e ne sente uno, ma adesso... Ma sono tanti, ma uno in particolare. Esatto. Allora, io direi... Ma guarda, una cosa qua sul monitor. Pubblicità. Grazie. 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 Grazie.